Forca paletta raga. Allora propongo di aterrare qua Si si, dobbiamo dare la fortuna Com'è lì sopra? Io sono sotto Non ho scelto, era uno che l'ho fatto scendere Mi sono scappati Block team D ha quasi traccato Ha fatto swap e cale È stato giù, è stato giù, addio Entro a casa, uno Figuta breve Da dietro forse Dal mid È sotto le scale Swingo, vado Oh, una grata in bocca Ho preso neampo Ha una viola, lui Grazie per... Grazie 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 al Pippo Corto che fa la sub Nick quelli esotti Porto Muso Porto Muso Porto Muso Porto Muso di Allegri Che non è tanto Allegri Porto Muso di Allegri come fa a non essere hs che rispunta solo il ciucco esce solo la testa danno non di hs qua c'è una carabina con delle light a prenderli di vendi che ero di quello che non è entrato da sta guardando se vabbè ragazzi momento di vendicarci è un po' di qua da noi staccato avrete fuori mappa era d'assurdo a QP davanti non ho fatto di più stop insana pazzesca incredibile oh 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 non riesco ma che c'è più assolutamente qualcuno staccato avrete ha fatto un raw slot bianco 31 bianco vai in fade ok 35 flash eeeh boink boink voila non va come aveva non previsto guarda in lodi boink boink vediamo solo al sicuro perché si prova e si gioca alla grande devo lasciare la carabina non c'è po' c'è un turbello qua e via ragazzi rapido 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 getting help back mi verrebbe la mano arrivo ok io ho anche il volo si da qua possiamo farlo sai dalla terrazza appena ci sei lo facciamo da qua arrivo io ho un pad qui cascate eh no ecco lì ultima è solo uno ma che fa? si fa e a terra in bocca mi spiace un po' per lui non mi spiace un po' per Gli abbandonati Andi a ACU questo tizio Ma si dai scanniamo un po' Magari prima cerchiamo di là Aspetta 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 Prima di là Prima qua che non abbiamo guardato E qua se c'è gente lo vediamo subito È morto solo un team E comunque non è tutto Eravamo top 7 Magari sono là che campano Allò Oh stanno craftando Ho craccato l'horizon qui Ma c'è la blu È lì è lì Ma c'è un beacon Quindi mi sa che... A terra Volato Corre Esce È più di una squadra Questa è un'altra È un bloody Ho messo un colpo che c'è uno Il bloody è aperto Mi tiro le batterie da Spike Rafe l'ha fregato Mi stava a terrassi da una parte Mentre il player Ma fuck Oh what Sono già andato? Eh sì Eh sì Ma sono stamattina Che bella che sei Porca miseria Ciao Stermi Mi faccio il giro da sopra Scusate ci sono Sta arrivando Dovrebbe essere davanti a me Ma stanno sparando ai draghetti qua di Komodo Novo look Della Nina Ma Sono proprio venuto a un momento sbagliato Mi metto di entrare Metto un pad in tre Metto un pad in due Metto un pad in uno Metto un pad Dai che sono Mi ha dato Mi a destra Ok vado su questo qua a sinistro Vado su questo Traccato Vola Devo fare lo swap qui blu Ah c'era quello Non è che c'era un colpo Tra posto Tra qui Lo pusca questo qua Mi ha guillato Mi ha guillato Oddio ma slinghi Non è che c'era un altro team Noccato uno Puoi restarlo sai Sì sì sto facendo Sì sì sto facendo Mi vorrei togliere il split Ma sì Mi ha prescato un team alle squadre Mi ha arrestato Mi ha arrestato E' qua dietro Altra battery per me Adesso Dobbiamo fare una mossetta carina Ok andiamo a uscire questi quanti Questo è una mossa carina Spacchiamoli perché sono con l'iron sai andiamo a prendere questo va vai non può scappare oh oddio dammi un iron sight maledizione una russia vola la raghi e via noi finale intenso è stato bello andiamo siamo agressivi qua sotto vediamoci questa casetta iniziamo ok magari entro da da sinistra vai passo passo io prendo l'interno qua se ne un'altra e di là si spaccano eh c'è qualcuno vicino a noi vicinissimo si si sopra sopra forse vado avanti eh prendo spazio ti seguo ti seguo dietro anche vai entriamo sotto blu ce l'ha alla porta scende è sceso a destra l'ultima è qua per cazzo perfetto hai una coom ce li tieni qua stanno ancora fai tondo di là sono la zia dobbiamo andarci a piedi ho sei cellette vieni qua ci sono altre ne avete un po qua io ne ho ancora per ora poi c'è questo blu andiamo andiamo piano di sopra se vi buttate giù la metto sul tetto va che non mi fido 89 e andiamo vedete qua a sinistra sono sotto eh vediamo la porta al piano terra ah tu sei al piano terra al piano terra no loro sono al piano terra dentro qua vediamo dietro così guarda la finestra sono sopra dammi dammi andate mi sa così ce l'ha ce l'ha nice i colpi che potevo sbagliare li ho sbagliati bene manca un c'è un perfora cranio se vuoi per la 1 un 1 per un altro team sento post sotto forse o sopra andiamo a cercarlo qui è coraggio di fianco sentivo i passi sotto è sotto mi sa ci gettiamo come dei pazzi nella lava vai vai non lo vedo allora mi sa che è sopra in top ah è proprio in top eh lì non possiamo salire è sceso è sceso adesso o era un mirage no no è lì ci siamo dove siamo? ah maledetto vieni amico dobbiamo parlare oh cavoli vivo rio sono due sono due sono due mi hanno fregato ah ok sono due erano due la sopra ho preso la ground mi sta portando via col tp eh sì sì mi sto coprendo ci hanno letto l'acqua non c'è non c'è mi cura il rivo anche questo poi arriveranno bisogna prendere le altre tifle c'è bisogna salire su su una spot arriva sono safe mi tiro una phoenix maledetti 4 secondi ti serve un 1 per ragazzi qua il red off assolutamente non ce la faccio arrivere io solo lolo se vuoi va bene e tenete qualche due regali che ho preso dalla cassa è arrivato un team è un altro team è un altro team occhio che ci ci da venire dove sono io correte da me ragazzi sì sì corriamo esterni venite a me ci sono siete con me sono scesi abbiamo preso il tetto andiamo un po' più calmi e avete pesanti sì giurato 1-9 giurato 4 golosone questo è bello goloso 40 compagni arriva 11 11 io chiamo i numeri come log come log 60 bello questo io vado a fargli finisce la finisce mi serve un attimo quello che ha perché non ho più amico non è una cosa personale non lo metto più ragazzi questo è gigantesco ah sentinel da dietro non ci voleva sono pure restato dov'è che hanno restato di fianco a noi ah vediamoli occhio c'è un sentinel lì eh noi seguiamo il resto e poi vediamo il respodere e si ammassa dentro di loro io lo prendo tranquillo ok sono qua sono nel tunnel si si ti aspettiamo ok la vista aspetta facciamo così questo e anche questo pronto mi ha dato vantaggio allora ci sono osmo il nade li faccio andare via dalla so per me giusto perché sono belli mi ha marchiato noioso il marchio sapete che sono un po' noiosi da prendere così ma se proviamo ci proviamo con un tp quasi noc vado avanti vai prendo spazio quasi noc venti avanti abbiamo la sua abbiamo la sua cosa per avanzare arrivo arrivo vai tranquillo ma cazzo un altro è dentro si è dentro lì dentro non preoccupare basta bella bella ok giù dove sono gli ultimi taggiani lo torniamo vicino devo chiamarlo fai pure si si tieni qua andiamo verso l'air qua arrivo 63 attenti qualcuno non so chi abbiamo spazio 11 11 una dorata ma per voi c'è una dorata vai mi avvicino dai sentiamocela e io la prendo la dorata via sono andati sono scappati sono davvero scappati si si terrorizzati erano in due mi sa più che altro hanno aperto l'air questa è un'altra squadra occhio sono io per miracolo tieni dietro io per miracolo tirami una cupa è nell'angolo tiri una cupa nell'angolo dove sei no mi ha preso forse ok ci sono ok ci sono a terra una a terra una ho la capigola andate andate anche quella mi tiro la batteria caranata guardi pure l'air ci sono ero quello più carico prima lo ha la batteria è lunga è la rossa arriva ho sentito passi dietro forse l'altro team si è fatto parano con un arco si sono sopra è sopra l'altro team 45 quello con l'arco è quello lassù beh allora saliamo salgo salgo ah però ci ha letato via no 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 l'ho uscita prima ok manca l'ultimo lì sta salendo laggiù mi sa che abbiamo una duo e un solo la duo e quella davanti andiamo è nel tunnel 40 no ho fatto la cavolata 45 non finire in mezzo arrivo ho cercato quello con la gold si troppa di posto si è appena droppato lo seguiamo si io seguo la raid eh seguo la raid è one fatto dove sei sono tutto a posto manca l'ultimo come torniamo su adesso con la zip di onda guarda 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 sa che io devo arrampicarmi ho un po' meno ecco qua quindi quindi questa è davvero questa era una trio cioè sgani compagni dell'horizon compagni della loba prendiamo la zipline in follia ma vai 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 andiamo priorità numerica eh sapevo io che era una no gli ho tirato beella continua gli ho tirato tutti i pugni e non riuscivo a prenderli pronti buona la prima grazie ragazzi avrò 200 danni in croce ma no ma non è vero si si se non sono 200 sono 300 ma ha fatto tutto hard ma io infatti ho preso la lifeline per quello perché ho detto se va giù lui lo resto e intanto mi prendo qualche colpo come siete finti guarda lì è tutto più avete spaccato 1500 900 di danno 5 kill 5 kill 8 18 kill di squadra come fai a dire robe del genere good game a tutti quanti